Benvenuti al diciottesimo incontro con la storia d'Italia. È preso in esame il periodo 1919-1940 che interesserà anche il successivo diciannovesimo incontro. In particolare in argomento la situazione europea dopo la prima guerra mondiale, i prodromi della seconda guerra mondiale, l'Africa orientale, la guerra civile spagnola, l'Albania. Il 18 gennaio 1919 si apre presso la reggia di Versailles a Parigi la conferenza di pace che vide i paesi vincitori rappresentati rispettivamente da Lloyd George per la Gran Bretagna, Vittorio Emanuele Orlando per l'Italia, George Clemenshaw per la Francia e Woodrow Wilson per gli Stati Uniti impegnati per oltre un anno e mezzo nella ricerca di accordi che potessero soddisfare tutti i paesi. La spartizione ravvivò gli appetiti dei vincitori davanti alle spoglie dei perdenti. Questi contrasti minarono anche profondamente la nascita dell'ideale organismo internazionale che potesse evitare guerre future. Infatti la Società delle Nazioni, anche se si realizzò, vide la mancata e importante adesione degli Stati Uniti. La mappa d'Europa del 1914 fu profondamente mutata, soprattutto in conseguenza della dissoluzione dell'impero austro-ungarico. L'Austria, in particolar modo considerata responsabile del conflitto, fu duramente punita. Lo smembramento dell'impero la ridusse a un'entità poco più che regionale, dovendo cedere la Bohemia, la Galizia, il Trentino, Trieste, l'Istria, la Macedonia e facendo divenire l'Ungheria indipendente, la quale però fu privata a sua volta della Slovenia, della Slovacchia e della Transilvania. Tutto ciò portò quindi alla nascita di nuovi stati, quali la Polonia, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, l'Ungheria e alla variazione dei confini di quasi tutti gli altri. Per quanto riguarda l'Italia, essa partecipò alla conferenza di pace come paese vincitore, ma ebbe un ruolo minoritario. Intendeva ottenere le acquisizioni territoriali previste dal punto di Londra e in particolare dell'Istria, di Trieste, di Corizia e della Dalmazia. Ma il Presidente del Consiglio, Vittorio Emanuele Orlando, e il Ministro degli Estri, Sidney Sonnino, non riuscirono a far rispettare il patto, specialmente per quanto riguardava parte dell'Istria e la Dalmazia, in quanto queste anessioni erano in contrasto con il programma di Wilson che prevedeva la creazione di nuovi stati, secondo le linee di nazionalità chiaramente riconoscibili. Infatti, territori come Dalmazia e l'Istria erano principalmente abitati da una popolazione non italiana. Il mancato successo della conferenza di pace e soprattutto la mancata realizzazione della società delle nazioni portò alla rinascita delle politiche nazionalistiche ed espansionistiche che ciascuna nazione portò avanti in funzione della propria potenza economico-militare, indipendentemente dai rischi che tali politiche comportavano per la coesistenza delle nazioni stesse. Si è visto che con il Trattato di Versailles all'Italia furono negate le legittime richieste di terre che erano dentro i suoi confini naturali ed etnici, tra queste l'italianissima fiume nel Golfo del Cannaro. Il governo di allora, Nitti, si sottomise alla volontà degli alleati, ma non si sottomise dei bersaglieri che accorso con i battaglioni 37esimo, 43esimo, 46esimo e l'ottavo ciclisti all'appello del poeta soldato Gabriele D'Annunzio. Quando vede sobbidienza deve essere sempre per la giustizia. Dopo una marcia iniziata a Ronchi dei legionari l'11 settembre 1919, i bersaglieri entrano a fiume per primi e con le altre truppe le occupano, accorti da un entusiasmo delirante tra lo sventolio di migliaia di bandiere italiane. L'azione, peraltro fortemente osteggiata dal governo italiano, fu soltanto una parentesi violenta nell'ambito di una lunga trattativa fra gli alleati e i governi d'Italia e di coltavia, i quali, dopo un intermezzo di status di città libera acquisita da fiume, firmarono il trattato di Rapallo del 12 novembre 1920, che portò la città ad essere annessa all'Italia con il trattato di Roma del 27 gennaio 1924. Il 16 marzo 1924 il re Vittorio Emanuele III giungeva nella città. L'imperatore d'Etiopia, Aile Selassie, al secolo Tafari, Magonenne, Old Maik, ultimo imperatore d'Etiopia, morto in prigione nel 1976 in seguito a un colpo di stato, succeduto a Menelik II nel 1928, stipula con l'Italia un patto ventennale di amicizia che avrebbe dovuto portare benessere di civiltà a quel popolo dai costumi ancora barbari. se non che, per influenza dell'Inghilterra che mirava ad una sua espansione in Etiovia per congiungere questa regione a Sudan anglo-egiziano, l'imperatore comincia una politica di ostruzionismo e aggressiva verso l'Italia che si materializzò nella mobilitazione del suo esercito e nei tentativi di riconquistare il presidio italiano di Ual-Ual nell'Ogaderno. L'Italia non poteva subire questi atti di prepotenza se voleva salvaguardare la sicurezza dei lavoratori italiani emigrati in Etiovia, la propria dignità e il proprio prestigio. Inghilterra e Francia, temendo un'espansione dell'Italia in Etiovia, inviano all'imperatore tecnici, armi, automezzi per potenziare i suoi eserciti. Le stesse nazioni, nel novembre del 1935, impongono all'Italia le sanzioni economiche per impedire i suoi rapporti commerciali con il mondo. A questo punto l'Italia allestisce un corpo di spedizione di 40.000 uomini che nel corso della campagna arriverà a 200.000 più 30.000 ascari cui comando è affidato ad un bersagliere, il generale Emilio De Bono. Alle operazioni prendono parte anche marina ed aeronautica. La guerra d'Etiopia, nota anche come guerra d'Abissinia, si svolse tra il 3 ottobre 1935 ed il 5 maggio 1936 e vide contrapposti il regno d'Italia e l'impero d'Etiopia. Le forze italiane invasero l'Etiopia a partire dalla colonia eritrea a nord mentre un fronte secondario fu aperto a sud-est dalle forze del generale Rodolfo Graziani disdrogate nella Somalia italiana, che era un protettorato acquisito nella precedente campagna del 1896. L'obiettivo era quello di raggiungere Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia. Il 3 ottobre 1935 ha inizio la prima fase delle operazioni a nord e già il 4 ottobre le nostre truppe occupano Adigrat ed Adua, senza trovare alcuna resistenza. A questo punto sorsero delle divergenze tra Mussolini e De Bono, in quanto il primo ordinava di avanzare, mentre il secondo pensava di arroccarsi su forti posizioni a tendere l'attacco dell'esercito di Ailes e la SIE per sconfiggerlo in un colpo solo. Ma questo richiedeva molto tempo. Nonostante tutto, il 3 novembre il generale De Bono iniziò la sua avanzata verso Magallè ed anche qui trovò poca resistenza, tanto che l'8 novembre le truppe italiane entrarono a Magallè. Mussolini, visto la titubanza di De Bono di procedere spedito verso Addis Abeba, il 14 novembre lo sostituì con il maresciallo Pietro Badoglio. A midday dicembre gli abissini entrarono in contatto con l'esercito italiano lungo tutto il fronte che dai guadi del Tecazè al campo di lincirato di Magallè si estendeva per 200 chilometri. Il punto più debole dello schieramento difensivo era nella impervia regione del Tembien, presidiata da forze limitate, ma l'attacco dell'esercito da Bessino fu arrestato. Per quanto riguarda il fronte sud, si può dire che l'avanzata del generale Graziani non ottenne grandi successi e la stessa si era fermata a Neghelli. Il generale Badoglio il 9 febbraio riprese le operazioni e riuscì a conquistare dopo dieci giorni l'Ambaradam, un bastione di 2756 metri di altezza costringendo il nemico alla fuga sotto incessante fuoco. Anche nella zona del Tembien, con la seconda battaglia, le truppe italiane ebbero un grande successo. Di avanzata in avanzata si arrivò a Maiceu, dove si infransero i ripetuti attacchi nemici i quali dovessero ripiegare in disordine incalzati dalle truppe italiane ed il Negus Aenese Lassie dovette ripiegare e il 30 aprile riparò ad Addis Abeba. Nel frattempo il segretario del partito fascista, Achille Starace, al comando di una piccola colonna celere di 5.000 uomini partita da Asmara, capitale dell'Eritrea, ha il compito di puntare direttamente su Gondar. Il fulcro della celere era costituito dal Terzo Reggimento Bersaglieri. Dopo una marcia di 500 chilometri su impervi sentieri e vari combattimenti, il primo aprile 1936 la colonna entrò trionfalmente a Gondar. Il giorno di Pasqua 1936, sulla vetta del Gorgorà del lago Tana, i bersaglieri del Terzo innalzano il tricolore e poi giù per l'immensa pianura per giungere ad Addis Abeba. Contemporaneamente dalla Somalia, la colonna comandata dal generale Rodolfo Graziani procede anch'essa in direzione di Addis Abeba dopo aver vinto in numerose battaglie un esercito di Etiube preponderante per numero e per armamento. Il 5 maggio 1936, le colonne italiane si congiungono vittoriose ed il maresciallo Badoglio entrava ad Addis Abeba accolto dai bersaglieri del Terzo Reggimento che per primi avevano conquistato la capitale del Necuso Fuggiasco. Infatti l'imperatore rese la sie abbandona i suoi poveri e si rifugia sotto la protezione dell'Inghilterra. La guerra è finita. L'Italia si è creata l'impero ed il generale Rodolfo Graziani rimane sul posto con il titolo di vice re e con il difficile e risuoso compito di rappacificare tutta la grande regione incessantemente minacciata da bande ribelli. Le ostilità infatti non cessarono con la fine delle operazioni ma si prolungarono con la crescente attività della guerriglia etiopica dei cosiddetti Abernyok, patrioti e con le conseguenti misure repressive attuate dal governo italiano durante le quali non furono risparmiate azioni terroristiche nei confronti della popolazione. I figli di Ramarben hanno scritto una nuova pagina di storia nei loro primi cento anni di vita. Infatti il primo olocausto e la prima medaglia d'argento a valore militare è di un bersagliere, il tenente Marco Morgantini. Il primo ad entrare a Magallè è un bersagliere, il generale Renzo Dalmazzo. Ed è un bersagliere che innalza la bandiera italiana sul forte di Enda Iesus l'8 novembre 1935 il capitano Nino Tramonti, l'autore della prechiera del bersagliere e del libro I bersaglieri dal Mincio al Don ed altri. Prima di entrare a Gondar e dissare il tricolore sul castello sono i bersaglieri del terzo reggimento i quali sono anche i primi a raggiungere i sorgenti del Nilo Azzurro e il grande lago Tana. In questa breve ma aspra e difficilissima campagna di guerra il nostro soldato, senza distinzione di forze armata, armi e specialità, ha fornito ancora una volta la tangibile prova delle sue qualità di resistenza alle fatiche, di adattamento ad ogni clima, di denacia, di sacrificio e di eroismo. Così in sette mesi si è conclusa la più grande guerra coloniale che la storia ricordi. L'annessione dell'Etiopia è il giusto e meritato compenso alle forze armate e dal popolo italiano che aveva lottato, sofferto e vinto per la gloria d'Italia. Il 18 luglio 1936 scoppia la guerra civile spagnola che a seconda delle fonti causò da 600.000 a un milione di morti e portò al crollo della Repubblica. Essa segnò l'inizio della dittatura del nazionalista Francisco Franco che manifestava molto interesse per l'ideologia del fascismo grazie anche ai consistenti aiuti della Germania nazista e dell'Italia fascista. La guerra civile spagnola è importante per due motivi. Il primo perché ha visto la partecipazione di soldati regolari italiani e volontari civili, anche se su fronti diversi. Il secondo perché è ritenuto il banco di prova della seconda guerra mondiale che avrebbe di lì a poco contrapposto le dittature nazi fasciste al regime comunista dell'Unione Sovietica ai paesi democratici dell'Occidente. Mussolini, portato al nazionalismo, diede tutto il suo appoggio a Franco inviando in totale 60.000 uomini tra esercito marina ed aeronautica e volle che si chiamassero corpo truppe volontarie anche se in realtà fu un vero e proprio corpo di spedizione di cui facevano parte molti volontari bersaglieri. Altri volontari civili italiani circa 3.500 inquadrati nella brigata Garibaldi combatterono a fianco dei repubblicani spagnoli al pari delle brigate internazionali formate da uomini di varie nazionalità. In più di una occasione i bersaglieri e non solo che combattevano su fronti diversi si sono scontrati direttamente. Infatti, dall'8 al 23 marzo 1937 furono coinvolti per la prima volta a Guadalajara Fra i primi bersaglieri ad arrivare in Spagna via il tenente Luigi Bonifazi futuro presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri dal 29 maggio 1972 al 6 febbraio 1977 L'eroico capitano resta fortuna il maggiore Fernando Danucci che alle porte di Malaga porterà con fierezza i suoi bersaglieri all'assalto così come alcuni anni dopo guiderà nella disperata resistenza africana durante la seconda guerra mondiale i suoi ragazzi al birre al gobi Con il 32esimo battaglione bersaglieri vi è il cantore delle nostre storie il maggiore Nino Tramonti la cui bravura e l'ardimento lo distinguono 500 furono i morti fra i volontari repubblicani mentre 4.000 nel corpo di spedizione fascista un enorme tributo di sangue che in qualche modo anticipò la guerra civile in Italia del 1943-1945 I lettori italiani non erano informati con obiettività soprattutto quando le truppe fasciste dovevano segnare il passo come è successo nella battaglia di Guadalajara dove il corpo di spedizione italiano venne fermato dalle brigate internazionali all'interno delle quali si distinsero i bersaglieri del battaglione Garibaldi che ebbe come primo comandante Randolfo Pacciardi futuro ministro della difesa dal 25 maggio 1948 al 7 luglio 1953 I lettori ingressi ed americani invece avevano notizie oggettive riportate da Ernest Hemingway George Orwell e dal fotoreporter Robert Capa a ricordare i nostri caduti come afferma la scritta l'Italia ha tutti i suoi caduti in Spagna c'è il sagrario di Saragozza tutti devono essere ricordati e a tutti si deve rendere omaggio tutti dietro la loro vita per una causa molto rispettabile lotta fa padrioti lontani dalla propria terra in schieramenti diversi triste riflesso di quello che è una guerra civile va ricordato fra l'altro che il 13 agosto 1936 nei pressi di Granada viene fucilato dai conservatori cattolici legati al nazionalismo franchista il poeta Federico García Lorca apertamente schierato con i repubblicani la vittoria dei nazionalisti venne programmata il 1 aprile 1939 e con essa la dittatura franchista che durerà sino alla metà degli anni 70 dal 1947 aveva restaurato la monarchia di cui si programmò reggente e nel 1969 nominò suo successore il principe Juan Carlos di Borbone che alla morte di Franco avvenuta il 20 dicembre 1975 fu incoronato re di Spagna l'Italia che ha sempre avuto una preeminente posizione civilizzatrice nel Mediterraneo in questo periodo cerca di estendere la sua influenza economica politica anche in Albania dove regnava il re Zog nel dicembre 1914 vi era stato inviato un corpo di spedizione di cui faceva parte il decimo reggimento bersaglieri per contribuire a salvare l'esercito serbo messo in rotta dalle truppe austro-ungariche e bulgare questo nuovo intervento in terra albanese che era stato concordato fra il re Zog e il governo italiano fu deciso per aiutare l'esercito albanese e contrastare l'espansionismo del Montenegro della Crescia e della Serbia il re Zog però forse non completamente soddisfatto dell'aiuto dell'Italia tenta segreti accordi con la Francia e l'Inghilterra ai danni della Germania e dell'Italia ma i sistemi tirannici adottati nei confronti della popolazione gli avevano da tempo alienato l'animo di gran parte della gente e per l'Italia fu facile appoggiare il sentimento popolare provocare la sua caduta e occupare l'intero territorio che fu attuato con un corpo di spedizione guidato dal bersagliere generale Arturo Scattini futuro presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri dal 1956 al 1966 e che comprendeva il 10 un battaglione bersagliere di formazione costituito da elementi dei reggimenti secondo quinto sesto e dodicesimo una dopo l'altra cadono le principali città Durazzo Elbasan Giadri Barballuschi Scutari Tirana Valona Fieri in tre giorni tutti gli obiettivi erano stati raggiunti la resistenza armata albanese si rivelò insufficiente contro le forze italiane il re ed il governo furono obbligati all'esilio l'Albania cessò de facto di esistere come nazione indipendente Il trono albanese fu assunto il 16 aprile 1939 da Vittorio Emanuele III fino all'8 settembre 1943 data dell'armistizio dell'Italia con gli anglo-americani A termine il diciottesimo incontro con la storia d'Italia